... Omaggio al capo tifoso della Salernitana, il Siberiano, così chiamato prima della gara, aria mesta, per questo e per la retrocessione aritematica della Salernitana, Grosseto in operazione playoff, al quarto, gara subito in discesa, il cross al centro, Piccoman di testa, mette dentro senza alcuna difficoltà, sembrerebbe come regatare in un lago, il Grosseto al sedicesimo, trova il raddoppio con Vitiello, controllo e tiro, tutto troppo semplice all'inizio, ma la Salernitana ha orgoglio, ecco Dionisi che si avvia verso la porta avversaria, vince il rimbalzo, col portiere mette dentro, gara che si riapre e trema la formazione toscana letteralmente, ricarico dalla grande distanza, incrocio dei pali, Grosseto veramente sulle gambe, occasionissima, Capone riesce incredibilmente a sbagliare il gol del 2-2, ma nel secondo tempo, ecco spreca adesso Mauro Esposto, Job non vede il compagno, poi Caputo ancora, siamo nel secondo tempo, sradica il pallone dei piedi di un difensore e mette dentro il gol del pareggio, Grosseto che spreca ancora l'occasionissima, Sarri si dispera e ancora di più, quando su questa azione la palla si impegna Caputo di testa, mette dentro il gol del 3-2, incredibilmente al diciannovese, ma Vitiello realizza una doppietta personale con un tiro di forza, quasi una disperazione, 3-3 siamo al ventesimo, e poi Job sotto misura, Picclaman mette dentro il gol del 4-3, e poi la gara finisce qui, sufficiente la direzione di gara di Gallione di Alessandria, una Salernitana certamente orgogliosa, un Grosseto che ha rischiato l'incredibile, ma poi è riuscito comunque a ribaltare il risultato, e a concludere felicemente questa avventura play-off, che senza Piniglia è certamente un po' più complicata, linea allo studio a Roma.